Sono la dottoressa Francesca Del Buono, esperta in catalogazione dei materiali librari. Qui con me è presente la dottoressa Manuela Greco, esperta in diagnostica e restauro dei beni culturali. Ci troviamo nella biblioteca comunale Corrado Alvaro, a Castrolibero, grazie al progetto Un libro per tutti, Innovare per condividere. Questo progetto è stato realizzato allo scopo di far conoscere le biblioteche del territorio e spingere i ragazzi alla lettura. Infatti sono stati creati delle attività per bambini e per ragazzi così da poter dare sfogo alla propria creatività e alla propria fantasia. In particolare noi qui abbiamo realizzato l'inventario di questa parte della biblioteca che ospida ben più di 3000 libri. Abbiamo infatti registrato per ogni libro il titolo, l'autore, l'editore, l'anno di stampa e se è stato donato o acquistato. Sono state create poi delle categorie, delle sezioni tematiche che riguardavano l'arte, la letteratura, la filosofia e la storia, letteratura per bambini, per ragazzi e soprattutto per l'infanzia. Sono stati tutti riorganizzati in delle scaffalature e sono stati riorginati per formato. Lo scopo di questo progetto è stato quello di riorganizzare completamente la libreria in modo da ottimizzare la ricerca e soprattutto rendere più accessibile la fruizione per tutti.